Ciao a tutti, guardate dietro di me. Abbiamo deciso che, visto che quest'estate non siamo andati in vacanza, adesso mogliamo tutto e ce ne andiamo due giorni al lago. A presto, venite con noi. Questa. Pronto per partire al lago? Sì. Ok, tu pronta Stella? Sì. Tu Elena? Sì. Yeee. Tu Max, prontissimo? Sì. Ok. Andiamo. Ok. Ciao. Siamo appena, aspetta che vedo il finissimo, siamo fanno un sacco di rumore, perché siamo appena usciti dall'autostrada, stiamo andando al lago, di Monate, stiamo andando al nostro albergo. Verò, Nico e Elena? Sì, finalmente, siamo quasi arrivati. Pronta per rilassarti al lago, mamma? Pronta. Ci voleva proprio tantissimo, vero? Vediamo quanti chilometri abbiamo fatto. 102. Quanti in elettrico? 14. Ok. Abbiamo fatto il check-in e stiamo andando alla macchina. Ma stiamo uscendo. Stiamo uscendo, è stato un bel soggiorno. Bello, breve ma intenso. Siamo a casa, bello, breve ma intenso. Siamo stati fortunati col tempo, ma veramente abbiamo anche cercato bene bene con le previsioni del tempo, il giorno giusto. Bambù. Bambù, bambù. Bambù, bambù. Abbiamo un pochino di cosine da portare, perché tanto ci fermiamo soltanto un giorno. Ok, vi raggiungo in macchina, arrivo, 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 arrivo. Ma che bellino che è questo posto. Dunque, 130, 131. Qua? Ok, vado, eh. Che bello! Allora, vediamo qua. Ma è grande! Ma che roba bella! Il mancabile aereo, non sapevo perché, c'è sempre i quadri dell'ale dell'aereo, anche sotto in reception, se ci avete fatto a casa. Vediamo un po'. Wow, sì, bellino anche il bagno. Bella, 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 bella. Vero, sono identiche! È proprio la nostra, è anche spaccata come la nostra, ce la crepo come la nostra. Le l'ha venduta IVA. Allora, vediamo l'altra stanza. Sì, è identica, sì. Ok, stiamo riattraversando la stanza. Vediamo dall'interno. Massimo, le chiavi ce le hai tu, vero? Sì. Perché non si, non si apriva la porta. Vediamo se da qua si apre. Vai! Yeah! Che gelo qua! Quale stanza? Quale stanza? Sistemata? Hai scelto la tua stanza? Questa? Ok. Quale è la nostra? Sono divise? Eh? Eh, sì, sono divise. Questa è la nostra? Sì. Lo sapevo! Sei bravo! Grazie, Max. Alcune cose si possono uscire in macchia. Stiamo andando a Sesto Calende a fare una passeggiatina prima di cena perché questa sera pizza! 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 Ahah! Siamo arrivati! Fatti vedere! C'è un'aria calda! Nutri qua sotto? Eccolo lì! Poi, vabbè, Gabbiani, Lombardia e Piemonte dall'altra parte del ponte e poi sento un aereo ma non lo vedo. Vabbè, c'è. E' andato. E' andato. Nutri! Qui sbarcava Garibaldi con i suoi armati la notte del 23 maggio 1959 per disperdere lo straniero. Ecco gli stranieri da disperdere, guarda come... Ecco che salgono... Dov'è Garibaldi? Fu ferito. C'è un cigno là. Sì, abbiamo visto. Eccoli! Che ora è? Allora, Elena è alta, 23 giugno, è vero? 1872. E ti riporti bene questi anni, eh? Caspita, davvero. Ammazza! Carina la pezzetta. Ti piace questa pezzetta? Laia. Mi ho fame. Hai fame? Ma allora dovremmo andare a mangiare qualcosa. Sì! Una pizza. E io voglio mangiare la pizza. Per una spesa a Lidl va bene? Che ne dici? E' un po' di due desideri. Come andare a Lidl con questa? E' un po' di due desideri. E' un po' di due desideri. Come andare a Lidl con questa? Il mio desiderio più grande. Chiudo? Sì, chiudi. Bello comunque passare con le strade in mezzo al paese. Sì, sì. Attenzione. Andiamo Nico? Sì. Ok. Salute! Risalute! Elena? Funge! Accidenti! Povera cucciolotta! Comunque la parte fondamentale è vedere l'acqua per domani. Vero Elena? Sì. Eh sì. Vediamo un po'. Bella patatina! Bella anche qua. Andiamo a vedere se possiamo mangiare. Sì 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 sì. Tieni. Ma che carino! Dove ci mettiamo? Dove vuoi? Scegli. Cina mamma. Cina mamma? Anch'io. Allora io ho in mezzo qua. E' vero, ma titelline le patatine! Buone! Sono arrivate le pizze! Yee yee! Ha vinto l'uomo la pizza, Ellen. In questo caso ha vinto un po' la pizza. Ma anche perché c'erano le patatine. Vediamo... Comunque ha vinto l'uomo. Vero, vince sempre l'uomo, anzi la donna. Esatto. Allora, Elena è caduta e adesso è trasportata da Max. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Come? Non ho più l'età per farlo. Non ho più l'età per farlo. Non l'ha più lei l'età per farlo. Esatto. Guardate. Andiamo a casa! Cosa è successo mentre tornavamo a casa? Mi titino il tuo lettino, fammi vedere. Wow! Vado negli altri appartamenti a portare l'identificio e il spazzolino agli altri. Ok? Ci vediamo! Ciao ciao! Ciao! Oh, salve! Andiamo per andare a dormire! In che situazione pensi che siamo? Buongiorno, buongiorno! Andiamo! Andiamo a fare la colazione! Sì, arriviamo! Vai, Erella! Apri! Buongiorno! Buongiorno! Siete prontissimi? Sì! Non si vede? Ah, ok! Arriviamo! Pugniamo! Colazione, colazione! Buongiorno! Buongiorno! Ah, Max! Sbizzarrisciti! Grazie! Io confio! Guarda, i cereali! Cereali! Cereali di Spencer! Choco Krispies! Vieni a sederti il liko! Ehm... È un sisi il letto? Sì, qua! Buona colazione! Yeah! Ehm... 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 L'abbiamo fatto colazione! Vi ho lasciato le nostre camere! Ora andiamo al lago! Ok! Arrivati! Non al... Allo stabilimento! Aiutami! Sono incastrata! Ma... Al Lidl! Come essere a casa! Per prenderci il pranzo! Andiamo? Eccoci! Oh! Casa dolce casa! Vero Elena? Ehm... Spesuccia fatta! Andiamo a fare il bagnetto! Io ho già iniziato! Eh? Ho già iniziato! Sei versata la contesta! Oh! Stiamo arrivando! Ok! Oh! Fa caldissimo! Incredibile! Sto già in avanti! Ma fa caldissimo! Andiamo? Andiamo! Ehi! Che bello! Che bello! Crema solare in patata! Yeah! Yeah! Spalmami! Stiamo andando a fare il bagno! hehehe! Oh! Oh! Ah! Stai solini! Che bello! mamma dimmi ti piace cucciola ci sono tante conchigliette si tante conchigliette vero oh stella si è tuffata una piglia che bel panorama e beh sì soffre caldo sotto è più freschina ma si sta benissimo bello anche il panorama vero? io vivo qui ora mi troverete mai più si ci sono riuscite si puoi nuotare puoi nuotare camminando con le mani sul fondo praticamente salta oh che che l'ha sembrata dobbiamo giocare a pallavolo? proviamo no non ti riesco nemmeno troppo poco riproviamo? sei nico? sei ok vado eh bravo me la riallunghi grazie max bravo sta prendendo la mano massimo e stella hanno preso il pedalo ciao ragazzi ciao ciao mandati delle lettere mandati delle lettere ciao 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 arrivo 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 guarda vado di gatto è meglio stare sotto è meglio stare dentro e fuori mamma mia sono qua ti ho raggiunto si ciao bella contenta di questa vacanzina? si Sono felice. Il coraggio della doccia finale, fredda fredda, in questo stagione, non è male. E io fredda qui, che troppo caos. Ah, questo è vero. Brava Topolina. Siete stati contenti di questa mini mini vacanzina? Sì. Inaspettata, eh? Ciao, Elenuccia. Ciao. Sì, sembra un lago qualsiasi. Giusto. Se voglio fare una foto a lì, così sembra che siamo andati in un lago qualsiasi. Molto bello. Il lago di Monate. Non, 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 non. No, non. Grazie.